Il scuola americale si è con la rete di Miss Gretsch, un gruppo favorito all'inglese e all'italiano. Pirlo, Verratti adesso a sinistra. Molto vicini, fra loro Balotelli e Martisio, però Verratti va da De Rossi che ha spazio. A destra c'è D'Arbian, ha seguito Verratti ancora. Pirlo, può essere lo Sterling, si trova spazio e allora ridà palla a De Rossi. Inserimento di D'Arbian, potenzione regolare. A destra c'è D'Arbian, potenzione regolare. Anni non fa il terzino, ma non fa il terzino, ma non fa il terzino. A me è un difensore centrale, tutto tondo, senza considerare che c'è un Welder con l'articola che ti spino. Ecco la D'Arbian, la palla a Verratti, però sì. C'è ancora Verratti, un Welder con l'offensivo, uno di là invece più portato a coprire, come sta facendo adesso. Antisio, 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 Antisio. Antisio, 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 Antisio. Antisio, 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 Ant Grazie a tutti Grazie a tutti